Il tesoriere del Santo Rosario, San Domenico di Guzman, di Rito Cascioli. Quando tra l'ottobre e il dicembre del 1818 si procedette alla risumazione di San Francesco d'Assisi, si trovò nella cassa, assieme alle spoglie del Santo, una cordicella nodata che racchiudeva una serie di grani. Un proto-Rosario, un Mariano? Probabile, se si ricorda la conoscenza e l'amicizia che legava il poverello d'Assisi al padre del Rosario. Un'amicizia nata a Roma in modo del tutto soprannaturale, come racconta un compagno di San Francesco. San Domenico si trovava nella città eterna per ottenere dal Papa l'approvazione del suo ordine. Una notte, mentre supplicava Dio a tale scopo, gli apparve il Signore in procinto di scagliare tre lance contro il mondo. Ma ecco che la Madonna supplicante lo scongiurò di usare ancora misericordia agli uomini peccatori. Gesù però sembrava non poter lasciare impuniti tanti delitti. Allora la Santissima Vergine ribatte con queste parole. Ho un servo fedele che tu manderai nel mondo affinché annunzi le tue parole e gli uomini si convertiranno a te e cercheranno te salvatore di tutti. Poi darò un altro servo mio che aiuti facendo lo stesso. Il Signore benignamente accettò la proposta e chiese di mostrargli i due uomini che ella avrebbe voluto mandare. Allora la Madonna mostrò San Francesco e San Domenico. Fu in questa visione romana che San Domenico vide per la prima volta San Francesco e il giorno seguente, avendolo incontrato e riconosciuto in una chiesa, lo abbracciò con grande devozione. Si sa che proprio San Domenico portava sempre con sé una corda annodata con i grani su cui contava le sue mille Ave Maria quotidiane. L'arma Questa pratica gliel'aveva insegnata la Madonna come potente arma di successo nella particolare missione che lui e i suoi compagni avevano intrapreso quali intrepidi e saggi predicatori del Vangelo contro le eresie che impestavano soprattutto il sud della Francia. A Pronil, nei pressi di Tolosa, il santo aveva fondato in una chiesa della Madonna un monastero di donne che avrebbe dovuto sostenere materialmente i frati predicatori a somiglianza delle comunità dei primi tempi della chiesa che sostenevano gli apostoli del Vangelo. Fu qui che, nel 1206, egli ricevette in visione della Madonna il santo Rosario. Purtroppo non si è più in possesso dei documenti ufficiali che notificavano questa visione del Rosario perché il monastero di Pronil, assieme alle sue carte, fu interamente bruciato dalla furia della rivoluzione francese. Tuttavia, la tradizione che fa risalire l'origine del Rosario a San Domenico è stata costante nella chiesa, accolta anche nei documenti pontifici. Lione XIII, il Papa del Rosario, così scrive di San Domenico in una delle sue encicliche. Si accinse con intrepido coraggio a combattere le battaglie della chiesa cattolica, confidando non nella forza, non nelle armi, ma soprattutto in quella preghiera che egli per primo introdusse col nome del santo Rosario e che, o direttamente o per mezzo dei suoi discepoli, divulgò poi dappertutto. È vero che la forma attuale del Rosario non risale a lui, ma al Beato, all'anno della rupe. È soprattutto a San Pio V, ma è da San Domenico che ha preso via la recita di questa preghiera, che è diventata la regina delle preghiere, se si esclude la preghiera liturgica. L'investitura Prima che Domenico nascesse intorno al 1173 da Felice e dalla Beata Giovanna, in un piccolo borgo della vecchia Castiglia, fu preceduto da un sogno premonitore fatto dalla Santa Mamma, nel quale, alla piadonna, pareva di portare in grembo un cagnolino con una fiaccola accesa in bocca, per dar fuoco a tutto il mondo. Niente di più anomalo, ma anche preciso, per indicare la missione del figlio. A Palencia studiò teologia e crebbe in sapienza e virtù. Molto amante della povertà e pieno di compassione per i poveri, arrivò a vendere addirittura il tesoro prezioso dei suoi codici. Entrò nel clero e divenne canonico regolare del capitolo della cattedrale di Osma, dove si diede anima e corpo alla contemplazione. Il vescovo di Osma, Diego d'Azbees, interruppe momentaneamente il suo ritiro per portarlo con sé in un viaggio verso la Danimarca. In questa circostanza, San Domenico si rese conto, con dolore, della situazione di grave pericolo in cui si trovava la Chiesa Cattolica a causa delle eresie degli albigesi e dei valdesi. Celebre è la conversione venuta per suo merito a Tolosa dal primo eretico, il locandiere, con cui aveva conversato per una notte intera. Fu allora che sentì nascere in lui il progetto apostolico ardito di predicazione e catechesi al popolo per liberarlo dai lacci dell'eresia. La verità beatificante che contemplava nel segreto della sua stanza doveva essere portata alla gente. Secondo quello che divenne poi il motto del suo ordine, contemplari et contemplata alis tradere. Era però uno contro tanti. Doveva trovare dei compagni con cui vivere secondo il Vangelo. La Madonna si rivela fin da subito patrona di questo progetto apostolico. C'è una visione raccontata dalle monache dell'ordine dominicano avuta da un santo monaco prima che l'ordine avesse inizio nella quale si vide la Madonna supplicare il figlio di non punire gli uomini. Madre mia, rispose il Signore, che posso o che debbo fare più al mondo? Ho mandato i patriarchi e i profeti per la loro salvezza e soltanto pochi si sono corretti. Venni io e mandai gli apostoli ed essi uccisero malvagiamente me e loro. Mandai i martiri, dottori e confessori e non li hanno ascoltati. Tuttavia, poiché non è conveniente che io ti neghi cosa alcuna, manderò a loro i miei predicatori dai quali saranno illuminati e corretti, ma se non si emenderanno sarò costretto a castigarli. Un altro santo monaco cistercense che aveva avuto quasi l'identica visione concludeva giustamente dicendo ad alcuni dei primi frati predicatori L'ordine vostro è stato creato per le preci della Vergine Gloriosa, per la qualcosa dovete conservare tanto degno ordine e la Beata Vergine Gloriosa principalmente onorare. L'ordine nato quindi a Tolosa adottò la regola agostiniana, ottenne l'approvazione pontifice da Onorio III nel 1216 e cominciò a diffondersi e operare in Francia, Italia e Spagna. La Santa Vergine accompagnava San Domenico e i suoi compagni nella loro predicazione ottenendo abbondanti frutti di conversione. In una visione un santo monaco vide una volta la Madonna che teneva ella stessa il libro aperto davanti al frate predicatore. Era lei, ispiratrice feconda di ogni parola di vita. Tutti i suoi frati si raccomandavano alla Regina del Cielo con amore filiale. Ogni sera dopo la preghiera andavano a chiudere la giornata con la recita corale della Salve Regina e ci fu chi, in visione, contemplò la Vergine Santa di scendere dal cielo sull'altare con moltissimi angeli e quando i frati dicevano le parole «O dolce Vergine Maria!» la Madonna li benediceva tutti i maternamenti. Per ciò che riguardava le necessità personali non si preoccupavano, sapevano in chi confidare. Raccontano le cronache dei primi frati che una volta la Madonna fu vista servire lei stessa i frati a tavola apponendo a ciascuno di loro la propria porzione. Un'altra visione molto significativa del legame speciale che unisce la Madonna a San Domenico e ai suoi figli. Durante un'estasi il santo si trovò al cospetto di Dio dove c'erano anche Gesù e la Madonna. Guardandosi attorno, egli vide rappresentanti di tutti gli ordini religiosi ma del suo non ne vide nessuno. E ciò lo turbò profondamente tanto che iniziò a piangere senza osare di accostarsi al Signore che lo invitava e gli diceva «Vuoi vedere il tuo ordine?» «Sì, mio Signore!» Allora Gesù pose la mano sulla spalla della Beata Vergine che spalancò il mantello di cui era rivestita e lo stese davanti al Beato Domenico. Sotto di esse vide una moltitudine immensa di suoi frati. Il frate si inginocchiò e ringraziò allora Dio e la Santa Vergine. Non poteva avere visione più consolante e prova più efficace dell'assistenza materna di Maria per lui e per i suoi figli. Il transito tra le ave Maria Quando la morte venne a portare il riposo alle sue membra doloranti e penitenti e il gaudio eterno dal suo anima egli era intento in una grandiosa missione nel Veneto e nelle Marche. Volle trascinarsi fino a Bologna per morire in mezzo ai suoi figli dove ora è venerato e assicurò che sarebbe stato più loro d'aiuto da morto che da vivo. Così la sera del 6 agosto 1221 non cessando di pregare recitando soprattutto l'Ave Maria si addormentò nel Signore stringendo tra le mani una cordicella annodata con la quale era solito contare mille Ave Maria ogni giorno. In quella stessa ora uno dei frati di Brescia lo vide entrare nella gloria trasportato in cielo dagli angeli e accolto da Cristo e da Maria. Era morto il grande Patriarca l'intrepido Apostolo della Fede il debellatore delle eresie che aveva partecipato in modo eminente alla missione di Colei a cui la liturgia dice CUNCTAX AERESES sola interemisti in universo mondo. Aveva legato la sua gloria alla corona del Rosario l'allora è per sempre più semplice ed efficace baluardo di difesa contro il demonio e le sue minacce alla fede cattolica.